Allora, c'è un tema che è stato affrontato oggi su alcuni quotidiani, su siti anche importanti, anche in maniera un po' ansiogena. Fermo restando che questo è un momento e chi è del mestiere nel calcio da tanti anni lo sa che bisogna accettare di sentire, leggere e vedere qualsiasi cosa. Perché in questi momenti qui, in una grande squadra, in una grande piazza, vale la qualunque e devi essere disposto ad accettare la qualunque, senza ribattere polemicamente e aspettando di poterti riscattare sul campo, che è l'unica piattaforma reale in cui una squadra di calcio può dire la sua e ha la possibilità di determinare se stessa, il proprio destino e il proprio futuro. Però qualche commento lo si può fare. Qualche commento lo si può fare. Il riferimento alla vicenda e alla questione ansiogena è i 113 milioni persi dal Milan. Intanto partecipare al Mondiale per Club è la giusta aspirazione di un club che è diventato campione del mondo quattro volte. Il Milan è il club italiano che è diventato campione del mondo per club per il maggior numero di volte, quindi è una vocazione, è una missione storica, un risultato sportivo al quale giustamente i tifosi tengono. Però diciamo che per incontrare l'interesse dei tifosi il tema del Mondiale per Club non viene sottolineato come traguardo sportivo, ma come penalizzazione economica. Allora, intanto è giusto dire che il monte premi del Mondiale per Club non è ancora stato sia i criteri di qualificazione che il monte premi non sono ancora stati scolpiti sulla pietra, non sono ancora stati definiti, per cui questa cifra che viene un po' buttata addosso oggi ai tifosi del Milan come seguito giornalistico di Milan-Borussia Dortmund non è di 113 milioni, ma di una ottantina. Che è una bella cifra, una cifra importante, sulla quale però dobbiamo intenderci. Non sono soldi persi, ma sono, al limite, mancati guadagni. Chiaro che per il Mondiale per Club sarebbero stati... perché per il Mondiale per Club, secondo uno dei due criteri possibili, non è importante solo la qualificazione di ottavi di finale, ma anche il risultato di un singola partita, per cui la parita con il Borussia Dortmund comunque l'abbiamo persa. Per cui diciamo che il mancato guadagno certamente è un mancato guadagno, certamente più guadagni più puoi investire, più puoi... perché attualmente quando ci sono... tendere a fare degli utili non significa specchiarsi, non significa bearsi, non è che il nostro proprietario Jerry Cardinale se ha degli utili va a farsi una mangiata, il nostro proprietario se ha degli utili vengono investiti sulla squadra, vengono investiti nel calcio, perché l'asset fondamentale è il calcio, la squadra e il futuro della squadra. Per cui i mancati guadagni, certo, vedere la cifra, più è grande il numero, più si fa il titolo, più si incontra l'interesse del tifoso, ma il mancato guadagno non è una perdita, quindi il Milan continua a vivere, continua per la propria strada. Devo dire che questa sottolineatura che ho visto dei conti del Milan, perché vedete, sullo scudetto del bilancio si arrabbiano anche i tifosi, sullo scudetto del bilancio non piace ai tifosi, i tifosi vogliono vincere lo scudetto vero, come abbiamo fatto un anno e mezzo fa, non cent'anni fa, vogliono le gioie vere, i risultati sportivi e quant'altro. Lo scudetto del bilancio viene un po' buttato in cacciara, cioè a voi interessa soltanto lo scudetto del bilancio, avete voluto arrivare troppo in fretta, mi dicono che il Milan ha voluto troppo in fretta l'utile, ma il Milan è dall'estate del 2018 che ripiana, il Milan era in una canea di debiti, il Milan ha saldato subito i bond, ha zerato le esposizioni finanziarie, ha zerato i debiti e nel 2019, nel 2021, nel 2022 ha continuato a ripianare, il Milan ha ripianato, 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 ripianato. Cosa che non si può fare all'infinito. Cosa che per la sostenibilità in quanto tale, la sostenibilità nel vero senso della parola, non si può fare all'infinito. Quindi capisco che lo scudetto del bilancio, soprattutto se se ne parla in questi giorni, in questi termini, è molto impopolare, fa arrabbiare i tifosi, è solletica ulteriori sfoghi, ulteriori imbettive da parte dei tifosi, vero. Però il fatto che ci vengano a pizzicare su questa cosa qua, significa che tutto sommato il Milan, dal punto di vista della sostenibilità e dei conti, è un modello, è un esempio, perché comunque questo club, che si trovava, che è stato preso al sesto posto, è stato preso al sesto posto e senza i soldi per iscriversi al campionato nell'estate del 2018, è diventato un club che fa la Champions League per la terza volta consecutiva, ha vinto uno scudetto, l'anno scorso ha fatto la semifinale di Champions League e quant'altro. Per cui il fatto che ci vengano a pizzicare sui conti conferma che li buttano in cacciare i nostri conti, però sempre modello e sempre esempio sono. Ora, la cosa che dicevo questa mattina e che ribadisco oggi, la cosa fondamentale, certo, tendere ad essere fra le migliori del mondo che si giocano in un mondiale per club è un risultato sportivo, non solo economico, che è giusto che il tifoso del Milan abbia a cuore. Ma è altrettanto vero che per noi diventa fondamentale, questo sì, fondamentale, perché vedete, il nostro è un percorso in cui ci sono delle accelerazioni, lo scudetto, la semifinale di Champions League e ci sono magari dei rallentamenti, come può essere uscire dalla prima fase a Gironi come è successo nel dicembre 2021 e come potrebbe accadere il 13 dicembre a Newcastle. E quindi è un rallentamento, diciamo, della crescita e del percorso, ma sempre di percorso si tratta. Per cui la cosa fondamentale per noi, anche se anche questo farà via dei tifosi, però rimanere fra le prime quattro significa avere budget. Quello che determina la potenzialità di spesa di un club non è il mancato guadagno, ma il budget. Il mancato guadagno di cui parlavo prima in relazione ai titoli un po' ansiogeni di oggi, ma il budget. E il budget noi ce lo stiamo guadagnando di anno in anno con le nostre prestazioni sportive, con gli altri risultati sportivi che dobbiamo continuare a fare. E il primo risultato sportivo di base per il budget del club, perché quando il club dice voglio rimanere fra le prime quattro, non dice non mi interessa vincere, mi dice che rimanere fra le prime quattro è la condizione qua non per avere un budget da investire sul prossimo mercato. Questo è quello che dice il club. Poi, che al Milan non interessi vincere non è vero. Perché quando il Milan va male come è successo col Borussia Dortmund, come è successo con l'Udinese, come è successo con la Juventus, certo che il tifoso ne soffre, ma il danno vero dal punto di vista complessivo ce l'ha il club, quindi il club certo che vuole vincere, certo che il club soffre se non vince. Il nostro non è un club che si specchia nei conti, i conti vedo che vengono guardati con attenzione e interesse dagli altri, tant'è che vengono a pizzicare, dagli altri protagonisti del mondo del calcio fra cui media, tant'è che vengono a pizzicarci sul nervo scoperto, come il ranking europeo, quando ne parlava tanti tanti anni fa Gagliani del ranking europeo, cacciara, però adesso il ranking europeo lo guardano tutti. La stessa cosa è sui conti del Milan, la buttano in cacciara a scudetto del bilancio, adesso perdete i soldi quando in realtà non sono soldi persi ma mancati guadagni e in realtà poi i conti saranno sempre di più al centro dell'attenzione di qui in avanti. Per cui il Milan è un club che può avere dei mancati guadagni ma ha un percorso che continua e che deve continuare rimanendo fra le prime quattro del campionato a tutti i costi, come dicevo questa mattina, che è importantissimo, fondamentale e soprattutto è un club che sa qual è la differenza fra andar bene e non andar bene nelle partite e nelle competizioni e che certo che ha il demone sportivo di voler vincere assolutamente che ce l'ha. A domani da Milarello.